I membri di numerose espressioni della famiglia francescana bolognese si sono ritrovati la sera di sabato per commemorare il transito di San Francesco, una consuetudine amata dai figli spirituali del poverello di Assisi che anche con la sua morte avvenuta la sera del 3 ottobre 1226 volle insegnare l'amore di Cristo crocifisso e risorto. La celebrazione ha avuto luogo nel monastero della Santa e ha ripercorso in preghiera gli ultimi momenti della sua vita. Francesco si fece deporre nudo sulla terra nuda per essere preparato in quell'ora estrema in cui il nemico avrebbe potuto ancora sfogare la sua ira. Con lo sguardo al cielo coprendosi con la mano la ferita del costato disse ai frati io ho fatto il mio dovere quanto spetta a voi ve lo insegni Cristo. Il santo tenne fede fino all'ultimo a madonna povertà indossando per obbedienza al frate guardiano un saio ricevuto in prestito raccomandava ai frati più di ogni altra norma il santo vangelo vivete nel timore del signore e conservatevi sempre in esso io mi affretto verso dio e vi affido tutti alla sua grazia. Ricordando il suo maestro e signore Francesco si fece portare del pane lo benedisse lo spezzò e ne diede da mangiare un pezzetto a ciascuno. Vole anche che si leggesse il racconto dell'ultima cena secondo Giovanni e fece tutto questo in memoria di Cristo e per mostrare quanta tenerezza di amore portasse ai suoi frati. Con tutte le forze Francesco pregava il salmo con la mia voce ho gridato al signore con la mia voce supplico il signore e intono ancora il cantico delle creature con il saluto a sorella morte andandole lieto incontro benvenga mia sorella morte